Bisogna... No, no, no... Tu poti parlare nello stesso? Ma per luce, per luce... Per luce vengono... Avanza a fuori... No... Per luce? Si ma sei capace a tagliarlo... Ah, io... Qui maniera, lui, t'ai un... Pronti mia a ti... Non so, se ho preso... E' un'altra cosa... Ma te ne metteresti uno intero senza tagliarlo? Eh sì, io non treco qua giù, io non treco se stavo. Deve metterlo a metterlo. Però ti ti tirai avanti, vinti, 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 vinti. Non puoi coltelletto, vinti. E dopo l'altro, però, come fai? Diva il pulga mese. E avanti pulga mese. Come fai? Un mese, in modo che non balla. Spogge in ciuma sulla peccata. Eh, calma, le gnaverie di Guarda Mosone. Eh? Fai legname riva. Uno sopra l'altro? Sì, ma... E uno sopra l'altro? Lassalo lì! E dopo è stato più ciuma! Ma come fai a vedere la linea lì? Ma... Davide, che? Sarà un certo tempo a dove hai peggio questo. No, vai bene! Eh... E me, i personaggi della vita. Ma è una palettura che cattava dai sei. Eh, sì! E provo di tutto il resto, eh? Vamo... 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 Bacchia... S.R.C. Vamo... Via! Via! Via la circular! Via la circular! Vai, vai! Passa! Via! Vai, vai tranquillo. Vieni tu, le foto, le metti su internet. Adesso non so mai, dopo, se hanno bisogno, magari giù di lì. Eh, giù di lì, infatti. Questa è tutta pubblicità, eh. Guardalo, guardalo. Attenzione che adesso ho tolto il camice. Se non prendiamo tre, fanno la fattura. Piano anche due, fanno la fattura. They sell that.